In questi giorni è arrivata una notizia che merita molta attenzione. Il Luca Museum, Museo di Arte Contemporanea, è stato valutato, collocato al settimo posto in un aggradatore regionale dall'Agenzia di Comunicazione Klaus-Devian Company, quindi subito dopo beni culturali di livello mondiale, quali la Galleria dell'Uffizio, Palazzo Pitti, la Piazza dei Miracoli, eccetera. L'Agenzia ha lavorato su un campione di 1.200 toscani tra i 18 e i 70 anni. Le ragioni di questo riconoscimento importante sono diverse. Un paio si possono subito intravedere. Anzitutto la natura privata del museo che consente un incrocio ottimale tra l'economia e la creatività. Poi il fatto che questo museo ha un suo profilo molto originale, sta aperto fino a notte fonda, come si dice, ha mostre e attività e eventi performativi di grande qualità e si può anche gustare volendo un buon piatto al museo con prezzi ben contenuti. Questo riconoscimento coinvolge automaticamente anche Lucca, che è una città che è cresciuta molto velocemente negli ultimi anni a livello di grande città storica, doppio un ampio restauro che offre visioni e beni culturali di grande valore ad un turismo internazionale selezionato e ben consapevole. Ecco, in questo contesto Lucca Musemo si colloca molto bene con il proprio spirito moderno e la genialità di alcune sue intuizioni e questo va a beneficio di tutti.